Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Sono 1784 oggi nuovi positivi in Abruzzo, ma aumentano i ricoveri in ospedale, mentre in regione sono stati eseguiti 1782 tamponi molecolari e 8879 test antigenici, con il tasso di positività in calo al 16,73%. Soprattutto non si registra nessun deceduto a causa del Covid nel report regionale, che invece nel corso della settimana passata da lunedì ha raggiunto la quota di 19 vittime. Mentre sono complessivamente, da inizio pandemia, 435.683 i guariti con 711 pazienti che hanno superato il Covid e 54.036 gli attualmente positivi, 1.073 in più nelle ultime 24 ore, di cui 266 ricoverati in area medica, dove si segnala un aumento di 9 pazienti e 9 in terapia intensiva più 1. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila, 294, Chieti, 498, Pescara, 438 e Teramo, 393. Ma la situazione dei contagi ancora preoccupa. Professor Paolo Fazzi, situazione che evolve e ancora i contagi sono però tantissimi. Sì, purtroppo i contagi sono numerosissimi e questo trend purtroppo non è in discesa, anzi di giorno in giorno forse si osservano sempre più contagi. Ciò è causato, come sappiamo, essenzialmente da questo virus che è molto trasmissibile e poi anche dal fatto che oramai portare la mascherina in alcuni ambiti, in alcuni ambienti, ormai è un triste ricordo perché purtroppo nessuno la porta più e quindi di conseguenza la possibilità di far circolare questo virus dipende anche da noi, insomma dal nostro comportamento.